Non ha intenzione di scrollarsi di dosso la recente fama di attore folle ed esibizionista e appare chiarissimo a giudicare dall'intervista che Shia LaBeouf, ormai mago dei colpi di testa, ha rilasciato a Dazed, contattando a quanto pare personalmente la giornalista e chiacchierando con lei sul web prima di proporle un incontro. Un incontro sui generis perché l'attore ha voluto vedere la giornalista nella sua stanza d'hotel e le ha proposto di sedersi uno di fronte all'altra con in testa una telecamera senza parlare. La vera rivelazione Shia la fa però nelle sue chiacchierate sul web con la giornalista Amy Cliff, a cui confessa di essere stato stuprato. È accaduto a febbraio durante l'evento artistico Hashtag I Am Sorry, in occasione del quale l'attore per cinque giorni è rimasto dietro ad un tendone in una galleria d'arte di Los Angeles. Le persone del pubblico, una alla volta, potevano entrare e incontrare Shia. Una donna è venuta con il suo ragazzo che si trovava fuori dalla porta quando è successo tutto, ha raccontato l'attore. Mi ha frustato le gambe per dieci minuti, poi mi ha tolto i vestiti e mi ha stuprato.